Raddoppiano in un anno le imprese italiane che hanno investito nell'economia circolare, ma il dato resta ancora basso. Solo il 16% delle imprese nel 2023 rispetto al 9% nel 2022. Il dato è significativamente più alto nelle imprese che nel 40% dei casi ha realizzato investimenti per diventare più circolari. Gli investimenti riguardano soprattutto l'approvvigionamento di materiali riciclati, il 64%, e il riciclo di scarti di produzione, 61%, mentre solo il 14% degli investimenti è destinato a progetti di simbiosi industriale, un segnale ulteriore di come la circolarità sia sempre più percepita come un elemento essenziale dal tessuto industriale italiano.